Non si placa la quereltra Filt CGL e Regione Abruzzo sul caso trasporto pubblico. Dopo la denuncia sui vettori privati che sovrapporrebbero le proprie corsi a quelli regionali, togliendo guadagni al servizio pubblico, il puntora si focalizza sull'atteso intervento legislativo che dovrebbe colmare il vulnus che ha causato l'intera questione. Proprio ieri si è svolto l'incontro davanti al prefetto di Chieti alla presenza di tutti gli attori del caso, regioni e sindacati. La Regione non ha rilasciato alcuna autorizzazione ad un vettore privato per poter espletare il servizio in concorrenza su un tratto che è contribuito e ci riferiamo alla tratta L'Aquila-Roma. Questa situazione permane, noi in occasione della convocazione che c'è stata in prefettura per lo stato di agitazione che è stato proclamato in Tua, abbiamo avuto la presenza anche di alcuni funzionari della Regione che hanno confermato questa situazione. A seguito del mancato accordo tra regione e sigle sindacali, la CISL-FILT annuncia due scioperi, uno nei confronti della Regione e l'altro nei confronti dell'azienda di trasporto unico Tua, entrambe previste per il mese di maggio. Uno sciopero proclamato per avere più risorse ai trasporti, visti gli ingenti tagli che sono stati effettuati sia dal Governo regionale ma anche dal Governo nazionale. Le regole proprio affinché la Regione predisponga in tempi rapidissimi un piano triennale dei servizi, i servizi minimi e anche un piano regionale sui trasporti. Noi ci aspettiamo che appunto si intervenga dal punto di vista legislativo in tempi rapidissimi per evitare che in Regione Abruzzo permanga questa situazione di esclusività, se vogliamo, che è una sorta di giungla sulle regole.